Nelle ultime settimane la casa del grande fratello è stata al centro di un vero e proprio scandalo, noto come cellulare gate. Questo termine è emerso dopo che i telespettatori hanno notato un uso eccessivo dei cellulari da parte dei concorrenti, sollevando interrogativi sulla trasparenza e le regole del reality show. Le rivelazioni di Tommaso hanno portato la questione a un livello superiore, svelando che alcuni concorrenti hanno utilizzato i cellulari per controllare i social media. Questa confessione ha scatenato un acceso dibattito tra i fan del programma, che si chiedono se sia giusto permettere ai concorrenti di avere accesso a informazioni esterne mentre sono rinchiusi nella casa. Le tensioni sono aumentate ulteriormente dopo lo scambio culturale con la Spagna. La reazione del pubblico è stata immediata e variegata, con molti telespettatori che hanno espresso indignazione sui social media, chiedendo provvedimenti da parte della produzione del conduttore Alfonso Signorini. Tuttavia, sembra che la produzione stia mantenendo una posizione di non intervento, lasciando i concorrenti in una situazione di totale anarchia. Questo ha sollevato domande sulla validità delle regole del gioco e sulla possibilità che i concorrenti possano influenzare il loro comportamento grazie all'accesso ai social media. Il cellulare gate potrebbe avere ripercussioni significative sul futuro del grande fratello, mettendo in discussione la credibilità della produzione agli occhi del pubblico. La trasparenza e l'equità sono fondamentali per il successo di un programma del genere. E il cellulare gate potrebbe rappresentare un punto di svolta per il format, sollevando interrogativi sul ruolo dei social media nei reality show e sulle dinamiche tra i concorrenti. La produzione dovrà intervenire per chiarire le regole riguardanti l'uso dei cellulari e garantire la correttezza del gioco.